Celebrati stamane nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Via Giuffrida, Catania, i funerali di Salvo Bartilotti, il 17enne morto domenica durante un'immersione nello specchio d'acqua davanti all'Ido Aquarius di Acicastello. Alle commoventi e sequie presenti tanti amici, compagni di scuola, ma anche vertici e atleti della nuoto Catania. All'uscita della chiesa l'ultimo saluto a Salvo è stato dato da decine di palloncini bianchi, uno dei quali recava impressa la fotografia dello sfortunato giovane ritratto in compagnia della fidanzata. E proprio la società sportiva, attraverso il proprio presidente Francesco Scuderi, pensa ad un evento in memoria del pallannuotista catanese. La prima cosa che mi viene in mente è la San Silvestro a mare, il tradizionale tuffo di fine anno che si svolge nel porticciolo di Ognina che viene organizzata dalla società sportiva catanese. Ne parlerò con la famiglia e se ne saranno d'accordo, predisporremo un evento ad hoc come un trofeo alla memoria. Ieri intanto Salvo Bartilotti è stato ricordato a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enzo Bianco in occasione della presentazione dell'Orizzonte, la squadra di pallannuoto femminile che vanta scudetti e coppe dei campioni.